Buongiorno e bentrovati al Grazie a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa con Mattino 6 che inizia subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali che andiamo a vedere insieme, già vedete l'edizione di Pescara del Centro alle mie spalle. Allora cominciamo proprio da qui con il titolo di apertura droga polizia nei locali della Movida Pescara, gente in borghese tra i clienti per stanare gli spacciatori. Questa notizia ci dà lo spunto per darvene un'altra che è un aggiornamento di pochi minuti fa arrivato dai carabinieri della compagnia di Chieti perché Simone Cuppari, capo dell'omonima Andrina Regina proveniente da Branca Leone, elemento di spicco di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, dedita prevalentemente allo spaccio di sostanze stupefacenti al riciclaggio con base a Francavilla al mare e ramificazioni in tutta Italia, già sfucito alla cattura nel mese di febbraio 2017 nel corso dell'operazione denominata Design, coordinata dalla distrettuale antimafia dell'Aquila e coordinata dai carabinieri del comando provinciale di Chieti, è stato localizzato ed arrestato dagli uomini dell'arma teatina in una abitazione anonima della provincia di Bergamo. Il boss su cui pende una condanna in primo grado a 28 anni di reclusione per traffico di cocaina emessa dal tribunale di Chieti lo scorso mese di luglio a conclusione della operazione Shot 2009, nonché tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla D.D.A. di L'Aquila, di Reggio Calabria e del Tribunale di Pescara era riuscito a sfuggire alla cattura nell'ambito dell'operazione Sparta e Banco Nuovo condotta dai carabinieri di Pescara e di Locri. Dunque questa è la notizia che riguarda un'operazione che ha dato scacco all'Andrangheta Regina catturando il latitante Simone Cuppari, ci sarà anche la conferenza stampa alle 11.30 a Chieti, naturalmente altri aggiornamenti nel corso delle edizioni del nostro telegiornale a partire dalle 14.00. Noi adesso torniamo sul quotidiano Il Centro per continuare la lettura delle prime pagine regionali. Nel taglio alto i nuovi contratti della scuola, in Abruzzo arrivano 786 assunzioni di professori e poi il CDA dell'autorità di gestione, le nomine sui rifiuti spaccano il centrodestra in Abruzzo. Andiamo adesso nello spazio dedicato alle altre crona che sia al dragaggio in arrivo a 400.000 euro con l'accordo tra regione ed autorità portuale. Poi Montesilvano Capriolo ucciso a fucilate lungo il Saline. Una femmina adulta di Capriolo è stata uccisa lungo il fiume Saline e l'animale è stato intercettato da un cacciatore e sparandolo ha colpito alla schiena. Il Capriolo era stato fotografato martedì da alcuni volontari dell'associazione Nuovo Saline Onlus mentre beveva a pochi passi dall'ex discarica di Villa Carmine ed è stato sempre il personale dell'associazione a trovarlo morto. Poi nel momento in cui i volontari hanno deciso di recuperarlo non hanno più trovato la carcassa. Ancora il Pescara adesso venduti 2.200 abbonamenti si punta a quota 5.000. E poi ancora Francavilla, anziana dimenticata dal bus sulla A14, la polizia fa arrivare un altro pullman, il marito ringrazia gli agenti. Nella fotonotizia, dopo 40 anni di servizio all'ospedale civile, grazie al medico pescarese che salva i bimbi africani, grazie a Adriani, leggiamo dalla didascalia, chirurgo pediatra pescarese insieme a un piccolo paziente con sua madre, in uno degli ospedali africani dove opera da tre anni. La dottoressa nel 2015 ha fondato a Pescara la Ada Mane Sonlus che aiuta i bambini malati e si occupa della formazione dei medici. Di spalla, nel spazio da leggere, domani il concerto ben nato a Pescara canta l'Italia di Pinocchio. E poi ancora nel taglio basso, il consueto buongiorno a Bruzzo di Giuliano Di Tanna, il fascino discreto delle imperfezioni, il titolo della riflessione odierna. Restiamo sul centro, adesso andiamo a vedere l'edizione teatina. Il titolo di apertura, strisce fantasma, allarme a Chieti, la tragedia della maestra investita in città, troppi tratti pericolosi. Le altre notizie, nelle cronache a Chieti, la protesta, rifiuti allo scalo e strade rotte. Poi l'università, 55 corsi di laurea in partenza per l'università d'annunzio, così avvierà il prossimo anno accademico. La nuova offerta formativa è pronta. Ai precedenti corsi di studio si aggiungono due corsi di laurea magistrale in scienza dell'alimentazione e salute, in economia e business analytics. Per il rettore Sergio Caputi, l'annunzio offre sbocchi lavorativi. Il nostro Ateneo offre serie prospettive di lavoro, dice, novità anche per scienze e tecnologie geologiche della Terra e pianeti. Andiamo a vedere ancora da vasto col volontariato. Si pagano i debiti con la giustizia. E poi a centropagina, Goletta Verde a Punta Derci, No Trivelle in Adriatico, un enorme striscione giallo con la scritta No Trivelle e con i simboli di Lega Ambiente è stato issato dai bagnanti ieri durante il flash mob sulla spiaggetta di Punta Penna nella riserva naturale di Punta Derci a Vasto, dove è arrivata la Goletta Verde. È stata l'occasione per ribadire la contrarietà alle Trivelle e ad alcuni progetti nell'area protetta. Adesso andiamo avanti con la edizione teramana del centro. Il ministro, grave caso di razzismo, ma l'inchiesta interna dell'ASL non conferma le accuse del senegalese. Questo è il titolo di apertura dell'edizione teramana del centro. E poi ancora, restiamo alle questioni sanitarie. Dopo un incidente sul lavoro a Morrodoro, rischiava l'amputazione del piede, ma torna a camminare. È uscito dall'ospedale dopo 73 giorni di ricovero e presto potrà tornare a camminare su entrambi i suoi piedi. Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura di un operaio 52enne di Notaresco, vittima di un incidente sul lavoro per il quale ha rischiato l'amputazione di un piede. E poi, nelle cronache a Giulianova, niente bracciale elettronico, deve restare in cella. E poi, tortoreto, perseguita la convivente, viene allontanato, il compagno geloso e possessivo, non le permetteva di frequentare amicizie e famiglie a mesi di privazione e violenze anche fisiche, a cui la donna ha deciso di dire basta ottenendo l'allontanamento dell'uomo. I carabinieri hanno notificato a un quarantenne di Giulianova l'ordinanza che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla convivente e alla sua famiglia, che abita a Tortoreto, emesso dal GIP del Tribunale di Teramo, Marco Procaccini. Proseguiamo con le polemiche a Montorio, stipendi più alti per il sindaco e gli assessori. E poi andiamo a vedere sotto la fotografia, nel taglio centrale, ruspe in spiaggia, bagni fino alle 19, colonia via ripascimento, divieto di balnazione durante i lavori notturni. Nella edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona, il titolo di apertura, architettura, è un flop di iscrizioni. L'Aquila nella città dei cantieri, i neodiplomati snobbano il corso di laurea. E poi ancora nello spazio delle crona, che a Vezzano svela segreti all'indagato, Alfonsi nei guai. E poi ancora l'Aquila, Confcommercio chiede controlli mirati sulle sagre, controlli e feste di paese, a sollecitarli. E la Confcommercio, che ha inviato una lettera al prefetto per chiedere formalmente l'attivazione da parte delle forze dell'ordine, le strutture pubbliche preposte, dei controlli relativi alla sicurezza e al puntuale rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria per gli organizzatori delle sagre con le stesse modalità riservate alle aziende di ristorazione e agli esercizi pubblici. Le Proloco replicano, sono altre le cose da verificare. E poi Celano, multe ai clienti negozianti su tutte le furie. E ancora dal taglio centrale tenta di uccidere il compagno dell'ex Pratola, obbligo di firma per un operaio accusato di aver aggredito la coppia. Adesso cambiamo testata, passiamo sul messaggero, questa è la prima dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. falsi dentisti scatta l'allarme, è sequestrato uno studio medico a Loreto a Prutino, a curare i denti era un odonto tecnico. Il terzo caso in poco tempo, l'università, così i pazienti credono di abbattere i costi, anche se molto spesso non si è consapevoli della laurea presunta del dentista al quale ci si affida. Andiamo a vedere poi le altre notizie sul Mona. Consiglio Comunale accusa in aula il sindaco si sente male, doveva essere una seduta tranquilla, forte del documento di coesione e appartenenza firmato dalla maggioranza appena sabato scorso. Invece il Consiglio Comunale di ieri a Sul Mona si è trasformato per l'amministrazione Casini in una tortura che ha costretto la prima cittadina a ritirarsi prima nella sua stanza e poi a ricorrere alle cure dei medici per un malore avvertito probabilmente per l'eccessiva tensione. Comunque non è nulla di grave, per fortuna. Andiamo adesso a centropagina. Nella fotografia Giulianova, l'ambasciatore senegalese, segue il caso, insulti razzisti dipendenti sotto Torchio. Scatta l'inchiesta sugli insulti razzisti indirizzati a Ibrahima Dioppa. Giulianova e i carabinieri hanno interrogato i dipendenti dell'ufficio della ASL in cui sarebbe accaduto il fatto. Ancora a scuola arrivano 786 professori ma non bastano. Assunzioni a tempo indeterminato ad agosto i sindacati e adesso manca il personale ATA. Di spalla ASL unica i democrat abruzzesi accelerano sempre per quanto riguarda la sanità. Nel taglio alto e le altre notizie il cane eroe e la morte di caos prime conferme il veleno non c'entra nulla e poi i volley, la sie cortona e i 50 anni sarà una festa per la tifoseria per il calcio di Serie B il Pescara una partenza con il pieno di Azzurrini quattro vice campioni d'Europa under 19 verso il Delfino dopo Capone e Melegoni in arrivo Scamacca e Tripaldelli caos campionato Lavellino e Out. Andiamo a vedere anche la città il quotidiano della provincia di Teramo il titolo di apertura il giudice nega la terapia di Bella la cinquantenne Teramano malato di cancro chiedeva alla ASL di farsi carico del costo dei farmaci e poi nel taglio alto il nuovo ospedale Rebus Mazzini con tante domande ancora in sospeso per quanto riguarda l'ospedale di Teramo polemiche a Montorio la giunta ripristina le indennità piene per sindaco e assessori andiamo a centropagina nella fotografia Acqua del Ruzzo dalla ASL via libera l'utilizzo dell'ozono cloro addio scusate il titolo sulla fotografia appunto di un rubinetto da cui esce dell'acqua Villa Mosca costruttore e agente immobiliare a processo per truffa e poi la politica segreteria del PD sarà Vincenzo contro Renzo e poi Tortoreto picchiava la moglie incinta il giudice lo allontana da casa e nel taglio basso l'enogastronomia a Castelbasso cooking show di due chef donne dedicato al baccalà c'è anche l'editoriale del direttore Alessandro Misson professionisti dello sdegno sul caso di Giulia Nova del razzismo apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali e partiamo dal Corriere della Sera in apertura crescita lenta precari record questo è il titolo scelto dal Corriere i dati aumentano i contratti a tempo e la disoccupazione il PIL sale dell'1,1% rispetto allo scorso anno intanto scontro sulla RAI per FOA presidente Forza Italia non lo vota Salvini tentato può restare lo stesso e poi il fondo gli investitori la fiducia tra parentesi a rischio nell'Italia scrivono Alberto Alesina e Francesco Giavazzi di spalla troviamo le Olimpiadi del 2026 candidatura a tre per i giochi dubbi di Milano ma Torino apre questa novità diciamo in questo campo con la candidatura contemporanea di Milano Torino e Cortina nella fotografia l'ondata di calore al lago di Landro come al mare anche nelle Dolomiti c'è una nuova spiaggia perché il lago si è ritirato a causa del calore e della siccità andiamo poi a vedere anche i migranti riportati in Libia il giallo dell'italiana Asso 28 polemica Salvini operazione libica Unione Europea e UNHCR indagano andiamo su Repubblica che in apertura parla della RAI e dello strappo del governo su FOA presidente anche senza i voti nomine schiaffo a Forza Italia Beppe Grillo attacca i media sul caso Daisy era solo un uovo in faccia e poi l'editoriale di Ezio Mauro il populismo e la cultura del risentimento e l'analisi quelli che il razzismo non esiste scrive Sebastiano Messina mentre nel taglio alto del giornale troviamo l'inchiesta dopo i cartoni di Reggio Calabria pronto soccorso l'Italia del caos una notte in dieci ospedali tra attese di ore per la visita e pazienti messi dove capita ci vorrebbe il doppio dei medici andiamo sulla stampa ora il quotidiano di Torino in apertura sceglie di parlare delle Olimpiadi invernali la scelta finale il CONI propone le Alpi Torino siamo disponibili la sindaca pentastellata a Pendino dice una novità i giochi nazionali ma si pronunci il governo via libera la candidatura unitaria con Milano e Cortina oggi arriverà la decisione e poi per quanto riguarda la Rai la vigilanza Rai verso il no a Foa presidente che potrebbe determinare appunto uno strappo definitivo nella coalizione di centrodestra e soprattutto fra Lega e Forza Italia e poi a centropagina c'è il caldo record Ferrara un giorno in bici nel caldo che viene dal Sahara in Emilia Romagna registrata la temperatura più alta d'Italia tra i 37 e i 39 gradi andiamo sul fatto quotidiano apertura differente per il fatto Brizzi va archiviato gli sms delle ragazze lo scagionano il caso molestie che segue quello diciamo più famoso americano di Weinstein il PM i messaggi dimostrano il sesso con le attrici e i provini ma consenziente tre denunce presentate contro il regista probabilmente non arriveranno in tribunale la procura non vede atti sessuali compiuti con violenza minacce o abuso di autorità andiamo nel taglio alto la vicenda S-28 la nave italiana salva 108 persone le riporta a Tripoli contatti in i governo i migranti dritti in Libia e poi archivi aperti di Renzi di pistaggio sulle stragi la denuncia del componente della commissione sui segreti e poi la rete ucraina i dubbi sull'ex premier USA la lobby del Russia Gate usò Alan Friedman e Prodi andiamo sul manifesto titolo tradizionale sulla fotografia respinti all'inferno il titolo una nave italiana riporta in Libia 101 migranti e la prima volta che succede il salvataggio tra virgolette potrebbe essere in realtà un respingimento collettivo vietato dal diritto internazionale fratto gli anni di Leo dalla Open Arms accusa Roma ma per Salvini è tutto regolare nel taglio alto contratti a termine boom di precariato istat sfondato il tetto dei 3 milioni e poi per il decreto dignità il governo estende i voucher andiamo su avvenire il quotidiano cattolico in apertura titola estate con il fiatone il fatto negativi i dati di giugno mentre si vota il decreto dignità il vicepremier di Vaio darà lavoro vero treo del CNEL parla di una dubbia efficace la crescita rallenta più 0,2% nel secondo trimestre caduta dei posti di lavoro più tempi determinati poi ancora andiamo a vedere il caso migranti profughi riportati in Libia negato il diritto di asilo la denuncia Acnur salvataggio da parte di una nave italiana coordinato da Tripoli ancora Francesco incontra 60.000 ministranti il Papa dice siate amici di tutti fede come l'aria questo il richiamo di Papa Francesco andiamo sul messaggero il quotidiano romano in apertura sceglie i migranti svolta migranti tornano in Libia la nave italiana a So 28 con ufficiali di alzerrai a bordo salva 101 profughi e li riporta indietro il governo dice accordi rispettati l'Unione Europea non commenta una donna statunitense nella cabina di regia a guida italiana altra notizia che riguarda la TAP il nodo del gasdotto la TAP strategica il Premier Conte e i mal di pancia del Movimento 5 Stelle questo era stato anche un argomento di campagna elettorale e poi ancora frena il PIL manovra più pesante lavoro boom di contratti a termine il Tesoro si prepara a chiedere più flessibilità sugli investimenti a centropagina il caso delle domeniche aperte dei musei mossa di Bonissoli del Ministro stop dopo l'estate musei addio domeniche gratis i direttori dicono avremo più risorse oggi il voto in vigilanza per quanto riguarda la RAI il CdA va avanti su fuo a presidente rischio incompatibilità il no DPD e Forza Italia sul tempo adesso altro quotidiano romano il titolo di apertura è la casta salva le superferie tutti al mare altro che sforbiciata per i parlamentari più di un mese di vacanze d'altronde hanno lavorato addirittura un giorno su quattro a volte persino tre ore prima di partire Lega e Forza Italia provano a non dirsi addio sulla RAI andiamo a vedere adesso libero parola di un grande africano la sinistra ci usa come carta igienica il camerunense Otto Bitiocchia non dobbiamo farci strumentalizzare meglio che pensiamo a far ripartire il nostro amato continente andiamo a vedere le altre notizie nel taglio basso il salto del quaglione che fico il presidente dal bus al macchinone blu per quanto riguarda questa critica al presidente della Camera la verità ora un circo mediatico vergognoso emergenza anziani il vero razzismo mentre il PD e i giornalisti di complemento montano la panna sul finto episodio xenofobo di Moncalieri ogni giorno i nostri vecchi sono vittime di violenze spesso a opera di stranieri senza che nessuno fiati nel taglio alto reversibilità anche ai conviventi per favorire i gay i giudici scassano i conti dell'Inps andiamo sul mattino di Napoli il titolo di apertura rifiuti e incubo emergenza cumuli in tutta la campagna l'allarme del governatore De Luca servono almeno 10 impianti ma la crisi è globale dopo il giro di vite sulle discariche cinesi su ferro plastica e carta nel taglio alto notizia di sport De Laurentiis si prende il Bari Avellino addio alla B l'operazione in Puglia divide i tifosi azzurri calcio e affari le due società si ritroveranno in serie di questo per quanto riguarda chiaramente il mattino giornale giornale napoletano che pone molta attenzione alle vicende societarie del Napoli andiamo sul secolo XIX anche qui il titolo di apertura mai così tanti contratti a termine sono più di 3 milioni a giugno torna a salire la disoccupazione secondo trimestre la crescita rallenta più 0,2% e poi le domeniche gratis al museo il ministro dice basta l'obbligo è uno spot esplode il caso con l'ex ministro Franceschini che ha parlato di una scelta incomprensibile del nuovo ministro andiamo sulla gazzetta dello sport e così andiamo a vedere anche i quotidiani sportivi nazionali in apertura della gazzetta frena la mega trattativa Iguaini il pipita ora detta le condizioni chiede alla Juve di essere ceduto a titolo definitivo e vuole dal Milan un ingaggio di 9 milioni di euro all'anno e poi Caldara Bonucci accordo totale ma non dei tifosi questo per quanto riguarda la principale trattativa di mercato di queste ore prima di andare a vedere le altre notizie di calcio nel taglio alto il Conivara l'Olimpiade d'Italia Cortina Milano e Torino approvata la candidatura in Italia per i giochi invernali del 2026 oggi la decisione ufficiale al Consiglio Nazionale il governo prende tempo verificheremo i dossier il commento di Pier Bergonzi non sia solo un compromesso di spalla il mercato dell'Inter ecco Versalico Vidal quasi ok sogno Modric il difensore sbarcato a Milano per il Cileno è questione di dettagli ma c'è una pista che porta al gioiello del centrocampo del Real Madrid e poi Serie A anticipi posticipi e tv apre subito Ronaldo 16 big match a Sky Inter-Juve su Dazon ancora al Grande Torino alle 21.30 sulla 7 Toro Schiapecoense molto più che una amichevole nel taglio basso abbiamo già visto in precedenza il Bari e di De Laurenti il sindaco lo indicherà la FIGC per l'assegnazione del titolo sportivo il presidente del Napoli oggi sarà in città tre anni per raggiungere la Serie A pronti 3 milioni per la serie di altra società in difficoltà l'Avellino addio Avellino da Juaria Diaz quanti ricordi tar ultima speranza per l'altra società campana andiamo sul corriere dello sport in apertura via con l'evento il campionato parte alla grandissima sabato 18 alle ore 18 a Verona col Chievo l'esordio di CR7 ieri il primo doppio allenamento di Ronaldo che sarà il piatto forte della giornata inaugurale della Serie A poi in serata a Lazio-Napoli col debutto di Dazon TV nel taglio alto Higuain adesso frena il triangolo non si chiude ancora il Pipita non accetta il prestito per un anno la Juve non intende favorire ulteriormente il Milan ma si parla anche di un nuovo inserimento di Sarri dunque del Chelsea bloccata la trattativa Bonucci-Caldara andiamo adesso su tutto sport anche qui il titolo di apertura il CR7 apre la Serie A con la partita di sabato 18 che inaugura il campionato poi c'è la trattativa fra Juventus e Milan questa trattativa infinita per Higuain le condizioni di Higuain che detta appunto le sue condizioni alla Juve per essere ceduto e poi Toro Ciape notte da brividi stasera il grande Torino l'amichevole con la squadra brasiliana che nel 2016 visse la sua superga nel taglio basso Inter Vidal è fatta il sogno adesso è Modric prestito con diritto di riscatto oggi le firme poi il basket Natale sotto canestro domani due pagine con il calendario della per gli appassionati della palla a spicchi noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario prima però le previsioni del tempo eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di mattino 6 torniamo alle notizie dalla nostra regione aprendo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi partiamo dal quotidiano il centro in questa doppia pagina di primo piano la notizia principale riguarda l'autorità di gestione rifiuti il CDA dell'Agir spacca il centro-destra intesa Democratici Forza Italia Fratelli d'Italia Alessandrini verso la presidenza la Lega insorge è un inciucio a rischio l'alleanza nella coalizione per quanto riguarda la politica che continua a subire fibrillazioni e poi Abruzzo 2030 le proposte del PD ASL uniche assunzioni ecco la sanità del futuro è partita ieri all'Aquila la conferenza programmatica del Partito Democratico stasera tocca a Pescara e a settembre Chieti e Teramo le cose fatte e da fare per il PD nel taglio alto troviamo la tua un ingegnere e un giurista nel CDA di tua con le due nomine è stato riconosciuto e ricostruito l'organismo Tonelli confermato alla presidenza fra poco vedremo il servizio intanto nel taglio basso 18 aziende si uniscono e nasce l'associazione Arresticino d'Abruzzo IGP il famoso spiedino di Carnovina muove un giro d'affari di circa un miliardo andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo sul messaggero il nodo trasporti dalla Pirelli attua una top manager alla guida dei bus nominata nel CDA Irini per volarachi di origine greca accanto a lei l'avvocato e giurista Carmine Paolini e poi la campagna di Goletta Verde vasto flash mob contro l'estrazione di petrolio un flash mob appunto nella spiaggia di Punta Penna per dire no alla petrolizzazione dell'Adriatico sulla pagina Abruzzo della città anche qui la tua nuovi ingressi in CDA e riduzione dei costi presentati consiglieri Irini per volarachi e Carmine Paolini il presidente Tonelli rinuncia al compenso Paolucci dopo aver fatto la fusione abbiamo reso il servizio sostenibile e adeguato alle sfide servizi essenziali nella prossima seduta il consiglio regionale dovrebbe trasformare in provvedimento legislativo la delibera dei servizi pubblici essenziali nel trasporto pubblico locale possiamo andare a vedere in servizio di Paolo Renzetti riduzione del costo dei titoli di viaggio ed estensione del biglietto unico da 11 a 31 comuni sono questi alcuni degli obiettivi illustrati questa mattina a Pescara dal presidente di tua società regionale dei trasporti Tullio Tonelli in occasione della presentazione del nuovo CDA dell'azienda che passa da 3 a 5 componenti poi dobbiamo guardare anche nell'interesse dei cittadini anche a migliorare proprio l'assetto stesso abbiamo presentato ufficialmente all'inizio di giugno un piano che riguarda l'estensione del biglietto unico da 12 a 31 comuni per la prima volta credo che sia stato presentato un progetto dove si taglia il costo del trasporto del 65% anziché pagare di media 3 euro come biglietto si pagherà 1,20 euro quindi capite bene che è un intervento abbastanza drastico questo con lo scopo di portare viaggiatori sull'autobus dal mezzo privato all'autobus ho fatto fare un'indagine a una società specializzata la Cervet che è tra le migliori società in Italia e mi ha detto che la forbice che prevede che da 35.000 a 40.000 macchine automobilisti passeranno dal mezzo privato al mezzo pubblico il che significa che delle 115.000 macchine che ogni giorno arrivano a Pescara le potremmo portare io parlo in termini teorici sono studi fatti da 75.000 a 80.000 significa riportare Pescara agli anni 80 credo che questa è la cosa più significativa al di là del fatto che avremo anche un beneficio in termini di entrate aziendali il che non guasta il nuovo consiglio di amministrazione avrà un costo di 5 volte inferiore a quello degli anni precedenti come ha dichiarato il consigliere regionale con delega ai trasporti Maurizio Di Nicola questo nuovo CDA costa innanzitutto 5 volte di meno di quelli che c'erano precedentemente nelle tre società fuse in tua ma non è il costo del CDA l'elemento qualificante di queste nomine quanto l'aver coperto tutto lo spazio delle competenze che servono alla grande azienda come tua per dare le risposte di ulteriore organizzazione del servizio che noi ci attendiamo la regione Abruzzo mette in campo finalmente i servizi minimi regionali è una programmazione che attendiamo da oltre 15 anni arriveremo alla specifica con il piano triennale dei trasporti nei prossimi giorni su quelle griglie la nuova azienda dovrà cimentarsi e confrontarsi per garantire all'utenza il miglior servizio abbiamo integrato il CDA in maniera tale che ci siano tutte le competenze per arrivare a cogliere questo obiettivo nei prossimi mesi che è il nostro obiettivo principale poiché abbiamo nel corso dell'ultimo quadriennio messo in campo sia dal versante della regione una nuova programmazione che appunto attendevamo da oltre 15 anni sia dal punto di vista della gestione della società pubblica tutto quell'efficientamento per rendere sostenibile l'esercizio di un'azienda pubblica nei trasporti con un utile esercizio che l'ultima assemblea ci ha certificato e che quindi credo possa far essere ottimisti gli abruzzesi per quanto riguarda il futuro i lavoratori di questa azienda e tutti coloro che credono che l'Abruzzo debba essere visitato e che per essere visitato debba avere dei buoni mezzi di trasporto Pagina Abruzzo del centro si parla di ambiente legambiente flashmob di Goletta Verde non trivelle in Adriatico dopo la manifestazione ecologista nella riserva di Punta d'Erci a Vasto consegnata alla regione una proposta di lavoro sul turismo sostenibile poi l'incontro alla filte CGL vertenza Ryanair si allarga la protesta dopo lo sciopero europeo del 25 di luglio che ha portato alla cancellazione di circa 600 voli in tutta Europa l'appuntamento è fissato per sabato 4 agosto alle 14 nella sede della CGL per chiedere il rispetto dei diritti e delle libertà sindacali per i lavoratori di Ryanair il caporalato poi anche Libera e Caritas nell'osservatorio regionale le altre notizie in breve Movimento 5 Stelle oggi al viale regionarie per la scelta dei candidati la denuncia di Febbo e Sospiri niente fondi ai porti abruzzesi i soldi vanno tutti ad Ancona e poi i dati dell'Inps con il reddito di inclusione in 6 mesi aiuti a 4.666 famiglie andiamo avanti il lavoro con i nuovi contratti in arrivo si parla della scuola in Abruzzo 786 le assunzioni il Miur va a rimpinguare l'organico dei docenti soddisfatta la Cisle che però denuncia pochi posti perata e sostegno andiamo avanti apriamo la pagina di Pescara in prima di questo spazio il mercato dello sballo la polizia in borghese nei locali della Movida dopo l'arresto di domenica i controlli vanno avanti per scovare chi spaccia cocaina e cannabis le droghe più richieste poi la proposta di Cardelli ben vengano i controlli ma serve un tavolo periodico Gigi Pasetti di Piazza Muzzi e una manna dal cielo oltre alla vigilanza privata il controllo delle forze dell'ordine poi testa di maiale sulla porta niente minacce nel taglio basso il negoziante che ha fatto il macabro ritrovamento a San Donato mai ricevuto intimidazioni andiamo avanti e restiamo sempre a Pescara Lite, Trantonelli e Teodoro in consiglio comunale stop al regolamento dei vigili il consiglio rinvia per la terza volta il voto sul provvedimento per gli agenti della municipale sfuma la trattativa per l'accordo sul numero delle pattuglie armate sul ruolo del comandante e poi ancora arrivano 400 mila euro per il dragaggio dopo le proteste di 40 armatori le autorità portuali concedono i fondi per ripulire il porto canale nel taglio basso sit-in dei maestri a Montecitorio no al decreto dignità favorisce solo i diplomati di scuola magistrale andiamo avanti la festa di Sant'Andrea sempre a Pescara spesi 90 mila euro per fuochi e concerto il comitato organizzatore mai viste 60 mila presenze costi recuperati in parte con i biglietti venduti per il concerto di Massimo Ranieri e poi nel taglio basso potature sbagliate i leci sono secchi Italia Nostra si scaglia contro il comune per il taglio degli alberi in corso Vittorio Emanuele piazza salvo d'acquisto una rinascita a colori sabato l'inaugurazione del rinnovato spazio urbano residenti divisi sulle tinte sgargianti sembra Barcellona non rispetta i caduti queste le critiche alla riqualificazione di questa piazza e poi nel taglio basso Fontanelle c'è il cantiere via caduti per servizio al via i lavori annunciati qualche settimana fa per 202 alloggi Ater nella pagina successiva la storia la grazia alla dottoressa pescarese che salva i bambini in Africa nelle pagine di Montesilvano cerimonia all'8 di agosto premio di Martini montesilvanese che richiama i turisti il colle si prepara a ospitare l'undicesima edizione in 5 anni tanti gli estimatori arrivati per conoscere le origini dell'attore l'idiatrice Portinari il nostro rimpianto e non essere riusciti a premiare Sergio Marchionne con il quale eravamo in contatto da due anni al pala di Martini Piero Nazzocchetti inaugura la mostra cinema e cultura nella pagina successiva via vada a beverarsi al Saline Capriolo avvistato e ucciso Montesilvano i volontari del nuovo Saline Ollus si avevano individuato l'animale ma dopo 24 ore hanno trovato la carcassa poi sparita Milillo serve più vigilanza ancora Ruggeri dice addio a Forza Italia Città Sant'Angelo l'ex assessore provinciale deluso dal partito guarda alla Lega Città Sant'Angelo in civili scatenati rifiuti ingombranti abbandonati accanto ai cassonetti nella pagina successiva andiamo a Francavilla Nada e Gino Paoli incantano al Blue Bar e stasera c'è il gran finale con The Original Blues Brothers Band e poi ancora a Francavilla al mare dimenticata dal bus in autostrada anziana soccorsa dalla polizia due agenti della postrada fanno arrivare un secondo pullman il marito ringrazia di agenti nel taglio basso tariffe dei campi sportivi e scontro San Giovanni Tatino protesta delle società per l'aumento deciso dalla SGT Sport andiamo a vedere anche le notizie da Pescara sul messaggero ripartiamo invece dalla cronaca quel bravo dentista privo di laurea nel suo paese Loreto Aprutino era apprezzato dai pazienti ma la polizia ha scoperto che era soltanto un oronto tecnico scattano denuncia per esercizi abusivi della professione e sequestro dello studio dopo il blitz della squadra mobile molto capace le sue parcelle sono accessibili a tutti i racconti dei pazienti alla base della inchiesta una piaga comune a tutte le branche mediche tocca agli utenti difendersi Camillo D'Arcangelo capo dipartimento di scienze orali spendere poco equivale a rinunciare alla sicurezza e noi possiamo andare a vedere questo servizio al piano terra della propria abitazione oltre al laboratorio di odonto tecnico aveva attrezzato un vero e proprio studio medico con tanto di lettino da dentista sono state le numerose testimonianze raccolte dalla squadra mobile della questura di Pescara ad incastrare un odonto tecnico di 63 anni accusato del reato di esercizio abusivo della professione medica perché in assenza dei titoli necessari cioè la laurea in medicina e chirurgia con relativa specializzazione in odontoiatria svolgeva l'attività di dentista all'interno del proprio studio di Loreto Aprutino i suoi pazienti hanno confermato come fossero soliti rivolgersi a lui ogni qual volta avevano bisogno di un'otturazione di una pulizia dei denti o addirittura di un'estrazione considerandolo un vero e proprio dentista di famiglia le indagini dirette dal sostituto procuratore del tribunale di Pescara Rosaria Vecchi hanno evidenziato che l'uomo pur non avendo mai conseguito la laurea necessaria fosse di fatto conosciuto come il dentista del paese il tutto ovviamente senza che venisse fatturato alcunché alla luce degli elementi di prova acquisiti dalla squadra mobile la procura della Repubblica ha chiesto il provvedimento del sequestro preventivo emesso dal GIP Gianluca Sarandrea che ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di esercizio abusivo della professione valutando peraltro come necessario a tutela dell'interesse della collettività a regolare svolgimento delle professioni il sequestro dello studio stante il rischio di reiterazione del reato proseguiamo a Pescara impennata dell'ozono l'ondata di AFA fa ammalare l'area le centraline registrano quota 160 a un passo dall'emergenza le zone di via Sacco e teatro d'annunzio il traffico chiaramente sotto accusa area di risulta forcing per il progetto i nodi urbanistici al comune di Pescara passiamo alla pagina successiva direttori di banca accusati di usura 5 ex responsabili del monte dei Paschi nei guai per 50 mila euro di interessi notizia che arriva da Francavilla due imprenditori sono stati vittima e un'azienda la procura ha chiesto i rinvii a giudizio andiamo avanti apriamo la pagina di Chieti sul messaggero paziente respinta perché obesa scattano le indagini della polizia la ragazza va in questura e denuncia la dottoressa chiedo che venga punita accusi alla ginecologa non visitandomi al consultorio mi ha umiliata ed offesa verrà aperto un'inchiesta penale dopo quella interna voluta dall'azienda sanitaria poi l'adannunzio Ateneo partirà il corso in scienze planetarie questa è la proposta più rilevante della nuova offerta formativa che comprende 55 corsi di laurea nel taglio basso sicurezza sulle strade l'ultima tragedia riapre il caso oggi l'autopsia della maestra in pensione investita e uccisa domani l'addio allo scalo ancora spaccio ed estorsioni moglie e marito finiscono in manette a Lanciano cedevano cocaina e hashish e minacciavano chi non pagava la posizione più grave della donna rinchiusa in carcere i coniugi di Rose erano a capo di un gruppo criminale i raid in strada e sotto casa poi a vasto lotta all'abusivismo e guerra in consiglio dati contrastanti botte e risposta a Barisano Suriani a Ortona nasce l'area Baubic con giochi e gazebo informativo prima di passare alle notizie dal Terramano andiamo a vedere le pagine di Chieti sul quotidiano il centro dopo la tragedia in centro strisce scolorite attraversare un rischio sempre più pedoni investiti ecco i punti più pericolosi in via aereo due morti in tre mesi allo scalo il traffico è un nemico e poi l'incidente di piazza Garibaldi maestra travolta uccisa domani autopsia e funerali nella pagina successiva anche qui c'è l'adannunzio via i 55 corsi di laurea cresce l'offerta formativa il rettore dice il nostro ateneo offre sbocchi occupazionali concreti ancora operazione a Lanciano minacce per la droga non pagata scattano due arresti abbiamo visto anche in precedenza vasto incidente in via del porto schianto in moto è grave un anestesista d'Ercole 45 anni medico del San Pio trasferito in elicottero a Chieti ancora fermate dalla polizia a Chieti a 14 anni rubavano vestiti al Megalò nella pagina successiva interesse usura in banca processati 5 direttori Ortona e il PM chiede il giudizio per i funzionari della filiale di Francavilla del Monte dei Paschi due ditte di edilizia denunciano 6 mila euro di addebiti su uno scoperto di 35 mila ancora altre notizie ma andiamo sulla pagina Teramana il presunto episodio di razzismo in apertura di pagina a caso di Hoppe interviene anche il ministro Giulia Grillo se è vero è un gesto gravissimo ma l'inchiesta dell'ASL mette in dubbio la denuncia del 39enne senegalese e poi nel taglio basso Montorio più soldi per sindaco e giunta la minoranza è un gesto dai responsabili facciolini si tratta di solo 200 euro lordi al mese nella pagina successiva ma anche il braccialetto elettronico lo stalker armato resta in cella dopo il patteggiamento il giudice ha concesso i domiciliari al 70enne commerciante Giuliese da 20 giorni l'uomo attende l'arrivo del dispositivo per poter lasciare il carcere di Castronio e poi in Cassazione l'omicida di Giulianova è fissata per il 2 di novembre l'udienza per l'omicidio di Paolo Cialini scendiamo nel taglio centrale picchia la compagna incinta viene allontanato da casa Tortoreto botte alla donna che non poteva uscire di casa e poi l'operazione della guardia costiera pesca illecita sequestrati due quintali di vongole a Giulianova nella pagina successiva Pineto al via i progetti per allestire rotatorie e nuovi parcheggi il comune approva gli studi di fattibilità e poi rimossi gli ombrelloni lasciati in spiaggia sempre a Pineto i blitz della guardia costiera nel taglio basso Silvi strade dissestate pericolose continuano le proteste nella zona alta del paese andiamo sul messaggero per le notizie dal Terramano via Longo quindi l'housing sociale va in archivio il progetto assemblea pubblica con il sindaco d'Alberto giunta assessore Mazzocca gli sgomberi saranno sospesi fino al giugno del prossimo anno per consentire i lavori e poi la polemica notti d'estate zero eventi per chi abita in città andiamo nella pagina successiva Asle interrogati come testi tre impiegati il presunto caso di razzismo ieri carabinieri hanno sentito il manager Fagnano ha indicato i nomi dei componenti l'ufficio sulla vicenda è intervenuto il console del Senegal che venerdì prossimo terrà una conferenza stampa in comune con il sindaco andiamo sulla città per le altre notizie dal Terramano Rebus ospedali con tante domande in sospeso a Milano si può modernare in Liguarda datato 1939 a Terramo invece serve un nuovo ospedale a 5 km il piano Asl realizzare un nuovo ospedale per acute a Piano Daccio e il nuovo ospedale di Giulianova e i 4 ospedali esistenti si chiede la città domandandosi appunto che fine faranno andiamo avanti il giudice nega la cura col metodo di Bella 50enne Terramano malato di cancro chiedeva l'Asl di farsi carico del costo dei farmaci nessuna evidenza per il tribunale non c'è prova che il cocktail di farmaci abbia avuto effetti positivi sulla malattia del paziente e poi ancora costruttore e agente a processo per truffa hanno venduto un appartamento in una palazzina a Villa Mosca che per il comune non poteva essere costruita la politica segreteria del PD sarà Vincenzo contro Renzo il sindaco di Castellato e il presidente della provincia in corsa per il dopo rapino dunque Vincenzo Di Marco e Renzo di Sabatino andiamo avanti l'housing sociale via lungo dall'housing alla rigenerazione l'impegno preso dal sindaco d'Alberto al termine dell'assemblea tra gli inquilini delle palazzine i passaggi l'housing sociale sospeso fino a giugno 2019 le case ora sono di proprietà di un fondo immobiliare proseguiamo 44 bimbi in più negli asili nido i posti aumentano grazie allo sblocco delle graduatorie per assumere le educatrici e i fiondi che arrivano dal Miur per la viabilità ma più lavori senza preavviso lungo la Teramo Mare nella lettera scritta all'ANAS dall'assessore regionale Giorgio D'Ignazio andiamo in provincia il ruzzo dal via libera all'ozono al posto del cloro nell'acqua l'ASL autorizza l'azienda ad utilizzare il metodo alternativo per le acque del potabilizzatore di Montorio sempre da Montorio il sindaco annulla i tagli all'indenità la denuncia dei consiglieri comunali di avanti insieme vanificati i risparmi della giunta di Centa rapidamente picchiava la moglie quando era incinta abbiamo già visto notizie che arrivava da Tortorese poi il caso di razzismo a Giulianova il console del Senegal in città invitato dal sindaco Mastromauro dopo il caso denunciato da Ibrahima Diop torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere le notizie dall'Aquila Ateneo il caso nella città dei cantieri ingegneria e dell'architettura flop di iscrizioni università i neodiplomati snobbano i corsi a numero chiuso dell'università medicina 663 domande per 116 posti e poi il caso del cane caos sempre più lontana l'ipotesi del veleno che ha ucciso che avrebbe almeno questa era la prima ipotesi ucciso il pastore tedesco che aiutò i soccorritori nel sisma e poi con l'emaggio gremita per l'addio a Emma all'Aquila i funerali dell'avvocatessa di 38 anni nella pagina successiva violenza a Prato la Peligna tenta di uccidere il compagno della ex obbligo di firma per un operaio 53 anni accusato di aver pedinato e aggredito la coppia con un martello da carpentiere ancora segreti all'indagato Alfonsi nei guai avezzano l'inchiesta su medici e falsi certificati obbligo di firma per il finanziere nel taglio basso acqua canistro bocciato l'imprenditore Colella sorgente alla Norda il Tar respinge il ricorso della italiana beverage sul messaggero anche qui le pagine aquilane caos i primi risultati delle analisi non è morto per avvelenamento i risultati dell'autopsia top secret probabilmente oggi referto ufficiale le indiscrezioni una causa accidentale un grave problema di salute dell'animale sempre più mistero sulla tragica fine del pastore tedesco nel giardino del suo proprietario Fabiano Ettore e poi il caso di Biondi all'Agenzia dell'Agir la Lega si infuria e si spacca il centrodestra andiamo nella pagina successiva il dibattito si infiamma e il sindaco Casini colpito da un malore la città esclusa dalle nomine Agir l'opposizione va all'attacco non riuscita ad amministrare il primo cittadino lascia l'aula pronta ripresa e comunicato nel quale accuse i politici che hanno fatto l'accordo sul caso rifiuti andiamo ad aprire lo sport partiamo proprio dal messaggero si parla chiaramente di Serie B in apertura Pescara partenza col pieno d'azzurro quattro vice campioni d'Europa under 19 verso il Delfino tempi lunghi per Cocco dopo Capone e Melegoni possono arrivare anche Scamacca e Tripaldelli e poi l'estate bollente anche l'avellino escluso ora la B è nel caos e per il volley Urtona la festa di 50 anni per la tifoseria della Sieco Lorenzo Dallari sarà protagonista il 9 agosto in Casa Sieco patrimonio da salvaguardare nella pagina successiva il Teramo Zichella a Teramo servono due pedine il mister è soddisfatto del mercato ma bisogna ampliare la rosa il dubbio delle cessioni di Tuglia Maddio e Mancini sotto contratto l'allenatore e il girone non ho preferenze a sud piagonismo al centro maggiore tasso tecnico le altre notizie per la Serie D Avezzano costruito per la C Giulianova arriva il Monte Granaro i biancorossi di Patron Bolami crescono bene per quanto riguarda invece la Vastese e poi ancora per quanto riguarda invece il basket Roseto fa tabula rasa non era mai successo per quanto riguarda gli Sharks nel taglio basso il ciclismo mondialito per i morti di Marsinelli i dilettanti Marti Sicuro e Nero Stellati che acquisti andiamo a vedere lo sport sul quotidiano il centro ripartiamo dalla B e dalle trattative di mercato Pescara con Scamacca può arrivare Tripaldelli il Delfino Tentena Suager verso Carpi Canutè è tornato oltre alla punta il Sassuolo potrebbe cedere anche il Tersino trattativa per il baby portiere al Borghetti l'ex Coulibaly piace al Brescia altra notizia che riguarda il Delfino venduti 2.200 abbonamenti l'obiettivo è sfiorare quota 5.000 1.609 le tessere col diritto di prelazione e poi per la Coppa Italia domenica arriva il Pordenone nel 2013 decise un gol di Maniero andiamo nella pagina successiva il tecnico del Teramo Zichella promuove i giovani sanno stare in campo buone indicazioni dal triangolare di lunedì oggi test con la San Giustese si lavora all'uscita Amadio Tulli e Mancini con le valigie Altobelli invece forse resta le altre notizie su questa pagina 26.31 agosto Rivera a Celano per presentare il camp della sua Accademy stasera si colla Tagliacozzo agosto è il mese di podismo e collegare fino a domenica e poi per il beach soccer la storia ragni un vastese in panchina trascina Genova fino alla serie A nella pagina successiva dilettanti le manovre di mercato l'Avezzano studia il ritorno di Di Paolo in promozione Lascia e le Cologna ripescati Bacicalupo Vasto e Santomero in prima 4 gironi anziché 5 altre notizie le novità dei Gello Blu il Miglianico punta la salvezza senza patemi d'animo al Badriati con manipolo di giovani affidati le cure del tecnico Izzotti e poi confermato il Baby Gentile la matricola Ponte Vomano si affida al gruppo storico il nuovo corso dell'UniBasket nella pagina successiva di Fabio Vai Amatori progetto con vista a 2 il Presidente l'accordo è un qualcosa di eccitante in prospettiva andiamo a vedere anche lo sport sulla città e concludiamo la nostra rassegna stampa Tulli e Amadio in partenza rimane Barbuti è il titolo che apre la pagina insieme a Mancini sono i tre giocatori sulla lista dei partenti Caidi Altobelli confermati mercato in fermento l'attaccante ex Gavorrano pare si sia ridotto il compenso per la prossima stagione per quanto riguarda Vitale invece c'è da rispettare la lista degli over che ad oggi non consente l'ingaggio e poi Roseto Sharks Norante lancia la campagna abbonamenti nel taglio basso invece la Teramo Basket Pavicevic per rinforzare il frontcourt il serbo di 207 cm classe 99 arriva da Ortona soddisfatto coach Domizioli e questa notizia chiude la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina vi ricordo l'appuntamento con Mattino 6 per domani alle ore 8 invece il nostro telegiornale oggi con le tre edizioni canoniche del TG6 alle 14 alle 19 e alle 23 davvero tutto grazie ancora e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti